Se sarà piena rivoluzione oppure no, non è dato saperlo, almeno per il momento, ma quella che è certo in Casa Roma è che l'anno prossimo sulla panchina giallorossa non ci sarà più Claudio Ranieri. Non una scelta di risultati, anche se ultimamente l'Atitano è come, ma programmata già prima del Ranieri bis. La prima scelta rimane Antonio Conte, inarrivabile però ecco quindi che il testimone passa nelle mani di Maurizio Sarri, lui che la seriala conosce come le sue tasche farebbe decisamente al caso di un ambiente come quello capitolino, ma averlo per la prossima stagione non è poi così scontato. Bisogna infatti capire quali saranno le intenzioni del patron del Chelsea, Roman Abramovic, se Sarri verrà confermato difficilmente si muoverà da Londra. C'è poi l'ipotesi Gasperini o Giampaolo, entrambi pronti probabilmente a pronunciare il fatidico sì alla possibilità di guidare un progetto di risanamento come quello giallorosso. Occhio poi a Gennaro Gattuso, gradito molto dall'ambiente di Trigoria.